Carabinieri della Rossa del Comando Provinciale di Trapani e militari del GICO, del Nucleo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza di Palermo, hanno arrestato tre persone facenti parte di una più ampia associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che ha operato sotto l'egita di Cosa Nostra all'ombra del latitante Matteo Messina Denaro. Sono in corso in tutto il territorio nazionale decine di perquisizioni nelle abitazioni e luoghi della disponibilità degli indagati. L'odierna indagine, denominata Eden 3 Pechegno, ha permesso di ricostruire i lucrosi traffici delittuosi posti in essere dagli associati sin dall'estate del 2013, consentendo nell'ultimo quinquennio il sequestro degli ingenti carichi di hashish acquistati dall'organizzazione. Le indagini hanno evidenziato come tre arrestati, tra cui l'ex avvocato Antonio Messina, autorevole esponente della criminalità organizzata trapanese, radiato dall'albo degli avvocati per le vicende giudiziarie che le hanno visto coinvolti in passato, tutti originari di Campobello di Mazzara e pluri pregiudicati per reati inerenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonostante ai periodi di detenzione ultradecennali scontati, sfruttando rapporti consolidati con alcuni referenti stranieri, nel periodo monitorato dalle indagini abbiano operato importazioni di ingenti quantitativi di droga lungo la tratta Marocco-Spagna-Italia. Dalle indagini condotte è emerso che gli esponenti e le organizzazioni criminali, oltre ad esprimere in alcuni dialoghi intercettati espliciti in riferimento all'attitante Matteo Messina Denaro, hanno agito anche in favore della consorteria mafiosa Campobellese, prevedendo tra l'altro tra le sue finalità la distribuzione di parte dei proventi delittuosi per il soddisfacimento dei bisogni economici della stessa, in particolare per il sostentamento dei sodali detenuti. In tale ambito ha assunto particolare rilievo la figura di Antonio Messina, appunto il quale si è anche adoperato per dirimere i contrasti insorti per ragioni economiche tra gli associati. Proprio in occasione di una riservata riunione tra Messina e un pluri pregiudicato palermitano avvenuto all'interno di un affollato esercizio commerciale, è stato captato un rilevante dialogo in cui i due indagati facevano cenno anche all'attitante Messina Denaro che il palermitano asseriva di avere incontrato.